sta porta sta porta è stregata la porta del sassuolo è stregata è stregata cioè ma consigli contro noi deve fare sempre miracoli in versione stasera in versione superman consigli in versione superman e bello a tutti ragazzi bentornati in questo video qui a GiaPiaz oggi siamo di nuovo qui nel GiaPiaz commentari per commentare il post partita della Roma ragazzi della mia Roma che va a giocare appunto fuori casa contro il sassuolo al Mapei Stadium che finisce per 0 a 0 una partita a due facce primo tempo un pianto un pianto perché uno perché ci sono state pochissime occasioni sia del sassuolo e sia della Roma pure il sassuolo mi pare ha fatto un tiro in porta nel primo tempo con Berardi e Mirante che fa il miracolo sul tiro di Berardi poi per il resto a parte che si è sempre bloccata da zone come al solito fa sempre schifo il primo tempo si blocca in continuazione non sono riuscito a vederlo bene il primo tempo ogni 20 secondi si bloccava comunque da quello che sono riuscito a vedere non era stato molto noioso il primo tempo il secondo tempo invece la Roma ha iniziato subito bene ha preso in totale la Roma ha preso anche due pali quindi la porta oltre che consigli che fa i peggio miracoli consigli che fa contro di noi sempre i peggio miracoli i peggio miracoli sempre contro di noi che fa il miracolo non non mi ricordo su chi su Esharawi mi pare fa un miracolo no non mi ricordo comunque fa un miracolo contro di noi come al solito contro di noi fa sempre i miracoli cioè è qualcosa di assurdo veramente assurdo e poi ovviamente non basta i miracoli di consigli anche i pali ne abbiamo presi due stasera palo De Gieco palo esterno o comunque palo e poi il secondo palo che l'ha preso il palo esterno però il secondo palo è stato oddio chi è stato il secondo palo non mi ricordo no Klaivert mi pare Klaivert si un palo è stato preso da Gieco e uno da Klaivert non mi ricordo no da Fazio mi sa è stato preso il palo un palo da Fazio e un palo da Gieco comunque aiutatemi voi non mi ricordo il secondo palo chi l'ha preso mi pare Fazio il primo l'ha preso Gieco il secondo mi pare Fazio ma non mi ricordo non vorrei dire bucì e falsità non mi ricordo comunque è stata una partita veramente stregata stasera è una partita stregata veramente non riuscivamo a segnare perché tra consigli che si veste nei panni di Superman che prende tutto veramente stasera consiglio on fire e poi i pali cioè veramente occasioni poi Klaivert veramente che è in ingresso in campo proprio brutto si è mangiato un'occasione davanti la porta cioè io dico tu mannaggia la miseria tu vannaggio cal Barcellona ma come fai a giocare al Barcellona se non ti impegni cioè un minimo un minimo di impegno cavolo comunque devo dire che chi è che non mi è piaciuto questa sera uno dei peggiori in campo secondo me che non mi è piaciuto è stato Zagnolo al primo tempo infatti al secondo tempo è uscito poi non mi è piaciuto neanche Under non è stato molto incisivo ma Klaivert lo stesso Klaivert non mi è piaciuto se devo trovare qualcuno che un pochettino mi è piaciuto diciamo il reparto difensivo non mi è dispiaciuto Fazio soprattutto si è dimostrato un giocatore che adesso a livello di prestazioni sta risalendo ha fatto una buona gara buone chiusure vabbè Manolasso è niente di eccezionale la sufficienza piena tutto il reparto difensivo non mi è dispiaciuto a me oggi quello che mi è dispiaciuto è un po' il reparto offensivo perché ci siamo mangiati un po' troppo occasioni mi viene in mente pure se non sbaglio un'occasione del gioco al primo tempo comunque poche azioni ma quelle poche o coi miracoli del portiere o comunque sbagliate niente ragazzi siamo appunto fuori dalla Champions al 90% almeno che l'Atalanta domani non perde con la Juve la Juve penso che si accontenterà non penso che la Juve perde in casa però penso non penso neanche che l'Atalanta vada a Torino senza portarsi neanche un punto a casa secondo me finirà un pareggio io spero che vinci a Juve per la classifica per la Champions ovviamente in teoria non mi interessa niente anzi vorrei che a Juve perdesse sempre però domani sera deve vincere la Juve contro l'Atalanta purtroppo è così io la classifica ragazzi dobbiamo stare attenti ragazzi c'è Empoli-Torino dobbiamo di fare Empoli domani veramente l'Empoli deve vincere domani deve vincere perché il Torino se vince se non sbaglio siamo a tre punti dal Torino quindi abbiamo pareggiato e se il Torino vince ce va a meno un punto quindi rischiamo veramente anche l'Europa League la Champions la vedo molto difficile che andremo in Champions però se continuiamo così non andiamo neanche in Europa io non cioè avevo visto nell'ultima giornata una buona Roma quest'oggi mi è piaciuta solamente un pochetto il secondo tempo ma per il resto il primo tempo è insufficiente la Roma non mi è un po' piaciuta ovviamente io parlo di occasioni create perché comunque la difesa non si è comportata male Mirante comunque è sempre uno dei migliori in campo anche oggi ha fatto un miracolo che è stato decisivo che non abbiamo preso gol anzi almeno quello almeno almeno che non abbiamo perso almeno quello e niente ragazzi anche questo video è giunto al termine vi chiedo di lasciare un bel mi piace fatelo se non lo volete fare per la Roma fatelo per me che sono tifoso della Roma ovviamente lasciatemi un commento scrivendomi che cosa ne pensate della partita se l'avete vista dove arriveremo in classifica quest'anno cioè arriveremo almeno in Europa League almeno scrivetemi tutto sotto nei commenti io non so più che non ce la faccio più veramente quest'anno è stata un'annata proprio di sofferenza di sofferenza io vi invito a fare una bella condivisione a seguirmi sui social mi raccomando e di iscrivervi se siete nuovi iscrivetevi ragazzi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando non porto solo po' a spartire ma porto anche altri video su gameplay eccetera eccetera quindi porto video un po' a tutto porto video un po' a tutto comunque vi lascio qua sopra nelle schede gli ultimi video se vi siete persi oggi stamattina ragazzi è uscito un video su un pack opening di FIFA quindi se vi siete persi andatela a vedere mi raccomando che è importantissimo visto che ha fatto poche visualizzazioni visto che è uscito stamattina quindi andatela a vedere e niente ragazzi da qui è tutto noi come al solito ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi sempre e comunque forza Roma dai vamos